L'avventura prosegue da Roviglio. Ad un certo punto mi sembra di essere a Roma, ma mi trovo a Pola. Fatico da matti in una discesa e una salita spezza gambe, ma poi vengo ripagato da un panorama mozzafiato. Infine arrivo a Rieca, conosciuta come la porta per le isole croate. Buongiorno, questa mattina si parte e comincio le isole croate, Rieca, infatti è conosciuta come la porta per le isole croate. Una bella salita. Ho già fatto qualche chilometro, adesso mi bevo un cappuccino e uno strudel di mera. La mattina bisogna alzarsi presto. Questa mattina sono uscito alle 6 e mezza ed è stata un'ottima decisione. Tutto fresco, fresco, fresco. Ragazzi, il mio ingresso all'isola di Kirk passa per questo ponte. Sono ufficialmente sull'isola di Kirk, adesso raggiungerò il paese di Kirk, poi mi imbarcherò e raggiungerò un'altra isola che si chiama Rab. Oggi è sabato, c'è un traffico spaventoso. Dal ponte di Kirk all'imbarco saranno più o meno 40 chilometri. Ciao. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti. Tu mi devi dire dove cavolo devo andare adesso, eh? Dove devo andare adesso? Ma che vi devo dire? Assurdo, assurdo. Tengo il track con questa bicicletta così carica comunque, è da pazzi, è da pazzi. Cammino di Kirk. Io intanto mi trovo qua. Sono mezzo perso. Dovrei passare qui. Voi ci passereste. Ditemi un po'. Io non lo so. Non lo so. Sto fresco qui. Questa volta sono esausto. Le uniche discese sono così, come traccia. Ho beccato un serpente non so di che tipo. Sono uscito da questa strada impossibile. Mi sono usciti dei serpenti. A chi lo vado a raccontare? Sono passati i serpenti proprio sotto le gambe. Sotto i piedi. Sono arrivato all'imbarco. Ho già preso il biglietto che mi è costato 90 cune, circa 12 euro. L'unica cosa è che sono le 13 e devo aspettare le 16. Tre ore. Questo è il bello e il frutto del viaggio. A proposito, ho perso i guanti. Qualcosa la devo perdere sempre. Tre ore. Tre ore. Tre ore. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, questa mattina ho avuto una spiacevole notizia, praticamente il traghetto per l'isola di Pag non c'è quindi dovrò attraversare l'isola e l'unico traghetto mi riporterà sulla terraferma, cioè sulla costa croata, speriamo che più giù ci sia un traghetto che mi riporti sull'isola di Pag. Oggi non si pedala nemmeno in discesa, figurati un po'. Oh 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 Grazie a tutti. Una coppia di italiani. Ce ne sono parecchie. La Repubblica di Venezia si è stata per 400 anni ininterrotti. Ancora nel 1900 il 55% degli abitanti di quest'isola erano italiani, istriani, di cultura italiana. Grazie a tutti. La Repubblica di Venezia. Italia! La Repubblica di Venezia. Sì, sì, una bicicletta. 50 cune. Sì. Quanto parte? Quanto parte è... 15 ore e 15 minuti. Prego, grazie. La scuola è andata bene. Sono arrivato all'imbarco per Pag, dovevo aspettare una mezz'oretta e si va, si va. La mia belva, eccola qui, è lei, la via Giola. Ragazzi, che ve ne pare? Io continuo a salire. Il formaggio. Qui c'è il formaggio buono. Non potevo non fare... Un pezzo di sterrato oggi. Eh, lo sterrato quotidiano ci vuole. Ho fatto una strada impossibile. Ma che me lo fa fare? C'è stata anche una frana. Gli inglesi, anche loro si sono dovuti fermare, immaginate un po' con la mountain bike. Stiamo tornando indietro. Niente. Succede. Pallato 194. Sono quasi ormai fuori dall'isola di Pag, domani mattina passerò sul ponte che mi condurrà a Zara. Oggi è stata una giornata molto dura come tutte del resto. E niente. Passando di qui ho chiesto a questo signore di questa casa, a questa famiglia, se c'era qualcosa, un camping, qualcosa per potermi mettere con la tenda. Mi hanno subito ospitato. Io ho dato una decina di euro e lui mi ha offerto addirittura una birra. Più di così non si può. Questo è benissimo. Qui c'è anche il bagno dove posso fare la doccia. Ma guardate come sono piazzati bene questi signori. Guardate, guardate. Io sto qua. Qui vicino ho trovato anche un piccolo negozietto che mi ha dato un formaggio delizioso della zona con un po' di pane. E io questa sera sono l'uomo più felice del mondo. Poi con un panorama del genere. Ma cosa si può desiderare di più? Io sto bene così. Io sto bene così.